Le sensazioni sono ottime, c'è grande entusiasmo, come è giusto che sia. L'ambiente è molto carico, si respira finalmente l'aria effervescente che mancavano a un po' di tempo a questa parte qui a Piacenza. L'obiettivo è rimanere nelle prime forze. L'obiettivo dichiarato è quello lì. Poi vedremo strada facendo, se saremo abbastanza bravi, l'ambiera è qualcosa di diverso. Il mix è tra giovanissimi e giocatori meno giovani, più esperti. È chiaro che non abbiamo avuto il tempo di selezionare anche in base alla data di nascita i giocatori, abbiamo preso i migliori che c'erano a disposizione e siamo contenti di quello che abbiamo fatto.